Che voce che si spense quel giorno, Carlo Alberto Salustri, detto Trilussa, che uomo, che capacità di raccontare Roma e di farla amare anche da quelli che a volte i romani non riescono a sopportarli. Trilussa è stato capace di farci vedere come una parlata che può sembrare greve diventa così leggera da riempire tutta l'ironia possibile della verità della gente di questa città, che anche io ho imparato a conoscere negli anni, alla quale torno spesso. C'è una poesia però che vorrei lasciarvi come segno oggi, intitolata Questione di razza, è molto breve, che cane buffo, e dove l'hai trovato? E il vecchio mi rispose, è brutto assai, ma non me lascia mai, si è affezionato, l'unica compagnia che mi è rimasta fra tanti amichi è sto lupetto nero, non è de razza, è vero, ma a me è fedele e basta, io non faccio questioni di colore, le azioni buone e belle vengono su d'arcore, sotto qualunque pelle. Direi che non c'è da aggiungere nulla.